Signorina Friar, ci serve aiuto per riprenderci il pacchetto. Miss Plumb, anche se riluttante, accetta la vostra sfida. Vale ogni arma che vinca il più forte. Rook, Sathwark sarà nostro! Voi! Avete ucciso il miele! E ora ammazzo voi! Signore e signori, siamo Evie e Jacob Friar. E da questo momento, voi lavorerete per noi.